che è successo? sta bene? pressione sanguigna in caduta? è normale che sanguini così? no, non lo è allontanati dal tavolo, che è? allontanati dal tavolo, subito! riesce a sentirmi lassù? bene, ho praticato una piccola incisione nel suo sacco renale, se lo lasso duro entro un'ora, morirà, adesso vieni qua giù e porta quel walkie top per caso sei vicino alle gabbie? si, per caso si, dai la tua radio a che? e perchè mai dovrai farlo? perchè se non lo fai, il dottore lascerà morire bene, che cazzo del che stai dicendo? che cos'è quel rumore? dalle quella radio e basta, degli! fallo, e fallo subito! lascialo andare! Jack! Jack! Kate! avete un'ora di vantaggio prima che inizino a inseguiti aspetta, dove sei? dove sei? ricordi quello che ti dissi sulla spiaggia? il giorno dello schianto, ricordi la storia che ti ho raccontato mentre mi ricucivi? rispondi! si, si, me la ricordo! quando sarai al sicuro, mi chiamerai e mi racconterai quella storia Jack, ti prego! se non ti sento entro un'ora saprò che qualcosa è andato storto e lui morirà! non posso andare, si che puoi, vai! Jack, non posso! battene subito! che incappa la nazione!